Mercoledì 24 gennaio, San Francesco di Sales, è il 24esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 342 al termine, il sole sorge alle 7.40, tramonta le 17.05, la luna si leva alle 15.31, tramonta le 7.18. Muore a Venezia Jacopo Cavalli, capitano generale delle truppe di terraferma, per il valore dimostrato durante la guerra di Chioggia, era stato creato nobile con diritto per sé e i suoi familiari di sedere in maggior consiglio, oltre ad una pensione annua dei mille ducati d'oro. Le previsioni per domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, sulla pianura di notte nebbie da sparse a locali andando da sud a nord, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature in aumento sulla pianura e in calo sui monti.